Benvenuti a My Marketing Shop, il sito sempre attuale per il fiorista, ricco di suggerimenti per le vendite e di idee per aumentare il fatturato. Entrate nella sezione pratica per utili consigli ed esperienze di fioristi nazionali ed esteri. E My Marketing Shop è aperto anche le vostre idee. Non dimenticate il Communications Toolkit, brochure, poster, raccolte punti e inserzioni pubblicitarie con il vostro logo. Un'altra sezione istruttiva è Academy. Contiene moduli didattici su svariati argomenti di grande utilità pratica per allargare le vostre conoscenze sul settore in cui operate, consigli pratici per raggiungere nuovi clienti e soluzioni pronte all'uso per migliorare ancora di più il vostro negozio. Volete essere sempre al corrente? La sezione attualità riporta ogni giorno notizie, novità e gli ultimi eventi. My Marketing Shop è continuamente aggiornato e ampliato. Visitateci regolarmente e approfittatene al meglio. My Marketing Shop, tutto per far fiorire il vostro business.